Marco Emerlo, vice direttore del Foglio. Eccoci, buonasera Roberto Sergio. Prima di lei stamattina abbiamo ospitato il capo dei contenuti di Discovery, la dottoressa Carafoli. Discovery è questo canale che secondo alcuni sta determinando la fine del famoso famigerato duopolio, è il concorrente che mancava, quello che introduce veramente la concorrenza che la Rai e Medeset non si fanno e che sta cambiando il panorama televisivo italiano. Hanno preso Fazio, hanno preso Amadeus, alla Rai entrambi, mi pare che abbiano quindi conquistato anche, hanno conquistato la popolarità dei quiz di Amadeus, quella colta di sinistra di Fazio. Credo che arrivi anche Barbara D'Urso che è la popolarità secondo me morbosa del pomeriggio televisivo, ma è vero che scardinano il duopolio? Intanto voglio dire, non credo che ci sia un duopolio, ci sta una grande offerta lineare, la Rai è leader di questa offerta lineare, Medeset è un gruppo commerciale, noi siamo il servizio pubblico appunto, quindi io non vedo questo livello diciamo di concorrenza. Concorrenza 9, la 9 o il 9 non mi ricordo, la 9 si è appalesata a tre personaggi. Perché la chiamano la 9? E il 9? No lo so, scherzo. No, scherzo sai perché? Perché Fiorello la chiamava sempre la 9, quindi siccome le mie gag con Fiorello sono abbastanza note, allora mi piaceva ripeterle. Allora no, hanno tre personaggi, Crozza da Tempo, Fazio perché ha scelto di andarsene dalla Rai un anno fa e Amadeus perché ha scelto di andarsene dalla Rai, quest'anno ha scadenza di contratti in entrambi i casi. Beh, sai, quando si parte dal 2% si può anche raddoppiare, ma noi siamo ben oltre il 35% come gruppo, quindi penso che la concorrenza ce ne voglia di tempo prima, che ci possa anche solo avvicinare a noi. Ecco, però allora Pier Silvio Berlusconi invece sostiene, l'ha raccontato in una conferenza stampa la settimana scorsa, di avere superato la Rai, Mediaset vi ha abbattuto, c'è stato un sorpasso storico. Abbiamo smentito naturalmente. Sì, avete smentito e non ci abbiamo capito niente. No, ma lo so che non ci si capisce niente. Allora, è chiaro che Pier Silvio Berlusconi è a capo di una società, di un gruppo quotato, ha una trimestrale, deve rappresentare i valori del proprio gruppo, ovviamente li fa sulla base del proprio obiettivo. Quello commerciale. Quindi io faccio fatica a dover dire che quando noi ci rivolgiamo dicendo che siamo leader, lo facciamo all'intera popolazione italiana. Loro si rivolgono solo a un target commerciale che parte dai 15 anni e termina ai 64. Io ho appena superato i 64 anni e non sono più conteggiato da Mediaset, così come non sono conteggiati i ragazzi fine 15. Quindi il target commerciale vale per la borsa, vale per Pier Silvio. Per quanto riguarda invece il servizio pubblico, credo che ci si debba rivolgere all'intero universo dei cittadini italiani ed è quello il vero parametro che secondo me deve essere tenuto in considerazione. Senta dottore, l'anno scorso abbiamo fatto un'intervista, io e lei sempre qui su questo palco. La RAI in quel momento era accusata di avere compiuto alcune purazioni, cioè di avere provocato per ragioni politiche la fuoriuscita di Lucia Annunziata in particolare. Io glielo chiesi e lei mi disse che al contrario aveva confermato il programma di Lucia Annunziata. Adesso a distanza di un anno si vota per le elezioni europee domani, Lucia Annunziata è candidata del Partito Democratico. Che significa questo? Che lo era già all'epoca, quando ha deciso di andarsene. Era chiaro che il suo obiettivo era quello, dopodiché io l'avevo confermata in consiglio di amministrazione, l'ho accompagnata all'uscita nella maniera più garbata possibile, avevo una penale da pagare che non ha pagato, perché si cerca di essere aperti e disponibili, ma dire che non avesse quell'idea, francamente, ecco la conferma ce l'abbiamo a distanza di un anno. Quindi Lucia Annunziata è uscita dalla RAI perché voleva candidarsi? No, io direi una cosa diversa. O sei candidata col PD perché è stata... No, io direi una cosa diversa, tutte quelle polemiche di quell'epoca erano delle polemiche strumentali, tutte volevano sostendere a una tesi e poi fosse arrivato l'epuratore, cioè Roberto Sergio, e che quindi queste persone se ne andassero perché non compatibili con la nuova narrazione della RAI Radio Televisione Italiana. Ognuno di loro se ne è andato per scelte personali, economiche o politiche. Nessuno di loro è stato mandato via. Nel frattempo è stata coniata un'espressione che è telemeloni. Cos'è telemeloni? Teleopposizioni, io la chiamerei. L'osservatorio di Pavia proprio ieri mi ha mandato l'ultima testimonianza che mai come nella mia gestione sia avuto un equilibrio correttissimo, anzi prevalente l'opposizione, molto di meno il governo e più o meno equilibrato la maggioranza. Quindi francamente anche questo. Ma noi siamo ormai quotidianamente travolti dalle fake news, quindi compresa la notte. Ho sentito adesso che Pia Medeo gli era stato proposto un programma sul giovedì sera su una rete RAI. Francamente io sarei contento, ma non è così. Però guardi, ho letto su Repubblica che avete deciso di punire Serena Bortone che aveva raccontato da vicenda. Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita, l'undici di questo mese rappresenterà le sue tesi e poi valuteremo. Ma certamente nessun dipendente di nessuna azienda, ricordiamoci sempre che noi siamo una società per azioni, abbiamo un bonde quotato, abbiamo una società quotata, abbiamo decine di migliaia di famiglie che dipendono, direttamente o indirettamente, dalla RAI. In nessuna azienda sarebbe consentito di scrivere un posto, di dire delle cose contro l'azienda per la quale si lavora. Lei questo ha fatto, non è stata punita. Però lì c'è stato un caso, così è stato raccontato, di censura. Cioè è stato impedito a uno scrittore scurati di esporre il suo pensiero. Io credo che alcune persone abbiano una straordinaria capacità di ribaltare la verità e di diventare vittime nello stesso tempo poi eroi del paese. Io ho mandato un Whatsapp, ce l'ho agli atti nell'audita, Serena Bortone, dove la invitavo a mandare in onda il monologo di Scurati, che poi Scurati dovesse andare a pagamento gratuitamente, perché era in quel momento in promozione con un libro piuttosto che con un programma. Questa è una delle tante infinite scelte che si fanno nelle aziende, ma ci sono mille casi, Cottarelli l'ultimo, abbiamo coperto che aveva un libro in promozione, non è stato pagato, è venuto e ha fatto la sua trasmissione tranquillamente. Nessuno avrebbe impedito quel monologo. Quindi Scurati non è venuto perché non veniva pagato. Esatto, certo. Ed era consapevole la redazione di Serena Bortone, tant'è vero, che viene mandato un comunicato stampa dalla redazione e viene mandato anche una scaletta dove c'era scritto ospite a titolo gratuito. Il riferimento alla punizione di cui ho letto su un giornale concorrente è che le saranno ridotte le puntate. I palinsesti verranno presentati al vertice aziendale il venerdì della prossima settimana. Ad oggi nessuno di noi è a conoscenza di quello che ci porteranno i direttori di genere. Quindi è una notizia che non esiste in questo momento. Tempo fa lei si arrabbiò molto con il direttore dell'approfondimento Rai che si chiama Paolo Corsini perché nel corso di una manifestazione pubblica, politica, di Fratelli d'Italia si era salito sul palco e aveva dichiarato di essere un militante di Fratelli d'Italia. Anche quella era una cosa passibile di licenziamento come nel caso... No, era sicuramente qualcosa che andava, come dire, valutata e è stato fatto un richiamo formale alla persona, ha scritto. Quindi diciamo che tendenzialmente in Rai finora non è stato inteso punire in maniera seria nessuno. Ma nessuno. Le dico una cosa, un'impressione mia. Io personalmente non vedo telemeloni ma vedo telecasino. Cioè a me sembra che la Rai non abbia trovato... Un casino che piace agli italiani visto che siamo leader degli ascolti. Sì, sempre più lambiti diciamo dalla... No, direi proprio di no. Noi diamo sulla prima serata sette punti a Mediaset dal gennaio di quest'anno e cinque punti sull'intera giornata. Non mi pare che ci stia penalizzando l'ascolto. Il Partito Democratico sostiene che la Rai è lottizzata dalla destra, è invasa. Hanno fatto una manifestazione davanti ai cancelli qualche mese fa in orario tardo. Poi c'è stato uno sciopero dei giornalisti della Rai. E l'ho scritto un pezzo molto divertente su questo. Di Carmelo Caruso, che ancora ricordo a memoria. Si apriva così. Non so, Carmelo non c'è qui. Diamo un po' di agio anche al povero Carmelo che trattiamo sempre malissimo. Il pezzo iniziava con queste parole. Scriviamo col favore delle tenebre. Perché il PD aveva organizzato la manifestazione tardissimo. Non si vedeva nulla. Qualcuno a un certo punto... Come dire, non si vedevano nemmeno le persone. Francamente. Ma a parte l'ironia però, c'è stato uno sciopero... Me l'hanno raccontata così, non è ironia. Me l'hanno raccontata. C'è stato uno sciopero dell'USIGRAI, che è il più grande e importante sindacato della Rai. Su questo se posso dire, il diritto di sciopero è sacrosanto. E' giusto, lo hanno fatto, ma è altrettanto sacrosanto il diritto a non scioperare. Tant'è vero che i telegiornali sono andati tutti in onda. Qualcuno con riduzione di durata, ma addirittura con una straordinaria laddove ci fu quell'incidente dove morirono cinque lavoratori. Quindi non erano crumiri quelli che lavoravano? Ma direi proprio di no. Io personalmente poi, posso dirlo, non ho mai voluto scioperare nemmeno a liceo, quindi figuriamoci. Considerarmi crumiro. Ed è nato un nuovo sindacato in Rai. Un sindacato di destra, si chiama Unirai, è una scissione del sindacato storico. Allora, i dipendenti hanno sette sindacati. Più sindacati ci sono, più libertà c'è, più pluralismo c'è. Io non so se siano di destra, di centro o di sinistra. Non li conosco e non li frequento, ma se diventassero tre, quattro, cinque sarebbe ancora più plurale. C'è uno strapotere dei sindacati alla Rai? Con me no. Con lei no. Senta, invece, ovviamente per ragioni professionali mi capita spesso di parlare, di avere rapporti con dei colleghi che lavorano alla Rai, dei colleghi giornalisti, si intende. Ecco, siamo in campagna elettorale, si sta concludendo, si conclude, domani si vota. Oggi si vota. Durante la campagna elettorale succede questo nelle trasmissioni, nei telegiornali, nell'approfondimento della Rai, cioè si contano i secondi, proprio il tempo, che i politici impiegano per parlare. Ci sono delle figure professionali, dei giornalisti che stanno lì a tenere il minutaggio, dopodiché costruiscono la trasmissione in base a quanto hanno dato a ciascuno. Tutto questo lo raccontano gli stessi colleghi in termini grotteschi, ci sono dei racconti proprio molto divertenti perché stanno lì a spaccare il secondo e costruiscono questo palinzesto informativo in base al tempo, non in base alla scelta giornalistica, non in base alla personalità del giornalista e la domanda è, la par condicio, tutto questo effetto della par condicio, è una legge grottesca e superata? È una legge sicuramente superata, è una legge che però è in vigore, c'è una regolamentazione di Agicom e della Commissione di Vigilanzarai, noi ci dobbiamo attenere anche perché ci sono delle responsabilità personali di direttori di testata e di chi sovrintende ai direttori di testata, io mi auguro che venga superata così come si lavorerà auspico a una nuova legge di governanza della RAI a partire dal prossimo triennio. A proposito di governanza della RAI, l'anno scorso noi ci siamo incontrati qui e la RAI come adesso è un'azienda molto indebitata, era arrivato l'indebitamento a 630 milioni La previsione è da 680, l'abbiamo ridotto di 100 milioni, abbiamo chiuso il bilancio in pareggio, abbiamo messo in conto 40 milioni di euro per un'incentivazione all'esodo che significa favorire l'uscita prepensionata di una serie di figure, circa 500 per poter assumere giovani e come dire digitali, giovani che siano in grado di venire incontro al rinnovamento alla Digital Media Company, in questi 10 mesi abbiamo fatto un piano industriale, un piano immobiliare, un piano di sostenibilità, un contratto di servizio, ridotto il debito ed era quello che avevo detto un anno fa quando ci siamo visti qui. Allora diciamo che il dottor Sergio si promuove Si promuove il management che ha lavorato in questi 10 mesi, che ha avuto la possibilità di lavorare solo per un motivo, perché non è stato portato dall'esterno, perché erano manager interni che conoscevano l'azienda e sapevano dove avrebbe potuto incedere. Noi abbiamo letto in questi mesi che l'ipotesi della staffetta alla dirigenza della RAI che si doveva, ora scade il consiglio di amministrazione, lei dovrebbe, si deve rifare il nuovo consiglio di amministrazione, lei dovrebbe secondo gli accordi che c'erano stati un anno fa andare a ricoprire il ruolo di direttore generale della RAI, mentre il direttore generale della RAI che è Giampaolo Rossi diventerebbe nuovo amministratore delegato, però negli ultimi mesi noi abbiamo letto che questo patto è saltato, questo accordo, è così? Sì, non è così come tutte e tante altre cose di cui abbiamo parlato, un anno fa mi è stata chiesta la disponibilità di completare un mandato di tre anni, io sono un manager da vent'anni in RAI e da quarant'anni mi occupo di attività manageriali, un anno fa mi è stato chiesto di chiudere un triennio con l'uscita di Fortes, precedente amministratore delegato, io ho accettato, ho nominato il giorno stesso che mi sono insediato un direttore generale che conoscevo, che stimavo e che stimo tuttora e che sarà il prossimo amministratore delegato e io sarò il prossimo direttore generale, quindi non c'è nessun problema. E siete ancora amici con... Allora io ero amico del padre e l'ho scoperto molto recentemente che lui era il figlio, siamo amici ma siamo soprattutto persone che si stimano. Le voglio chiedere l'ultima cosa, il nostro tempo è finito purtroppo, Sanremo, chiamerete Carlo Conti. Carlo Conti era sempre stato il mio candidato, io ho fatto un paio di battute, i conti tornano sempre, l'ho detto in tempi non sospetti, anche due mesi fa quando non se ne parlava, quindi è sempre stato il mio candidato e credo che farà un grande Sanremo, tra l'altro è quello che ha iniziato a scoprire i giovani, prima di Baglioni e prima di Amadeus, quando i Mahmood, piuttosto che gli Rama, piuttosto che tutti gli altri furono lanciati proprio da lui. Ed è certo che non ci sarà Fiorello, in nessun modo. Allora Rosario in questo momento è sul divano, riposa, guarda la televisione, in particolare sta guardando il tennis perché lui è un appassionato di tennis, lui sa che io inizierò il pressing a partire da metà luglio, lui decida ad agosto quando è in Sardegna, quindi da metà luglio a metà agosto scopriremo se Fiorello potrà o meno tornare in rai. E questa è una novità, cosa che io mi auguro naturalmente. E ce l'auguriamo tutti. Grazie Roberto Sergio, amministratore delegato della RAI. Grazie. Grazie a Roberto Sergio.